a me nessuno mi dice quello che devo fare io qua ci sono venuta da sola per fare un favore a voi perchè Giulia Giulia la dovete conoscere tutti che segreto Giulia che c'ha solo lei via un bel teatro faccia entrare la gente chiuda chiave e via fino a quando non ho finito dimostrare a tutti la nuova Laura la lingua di Roma l'uomo è debole penne dalle nostre labbra questo lo capiterà un po' come lo fare eh con due parole gli ho spiegato che stava per nascere una nuova me mi hanno detto Giulia è donna donna ammabba ammabba che fredda Giulia vada qua su che penne Roma so con due amici ma stanno vanno via ti conosce i disegni della briscola gli do partita di asco e del briscoletta si come dici che ti chiami? Antonio mi chiami restammi vicino lei l'indegna mica è l'unica no ma risposto così ha chiuso l'occhio ci vuoi metti beh lascio niente si Antonio da moda ah si maglia i bianchi spalla lì dietro la bocca setta che si sta per l'improvviso è mei coglioni e quindi Giulia la devo pure ringraziare oggi perchè ha tirato fuori il meglio di me se c'hai minuti eliminati adesso no io so senza limiti se vuoi dire a me Giulia «Ralui» o a me io le i